Gianluca si pacciocca continuamente il naso, già da invece si mangia le unghie fino all'osso. L'argomento di oggi che mi hanno suggerito attraverso il mio sito www.lapsicologasivio.it e se ti interessa tra l'altro proporre degli argomenti che ti stanno a cuore e che vuoi vedere trattati in questi video è semplicissimo, è gratuito, vai sulla home page del sito e entra per proporre e votare anche tu gli argomenti di questi video. L'argomento di oggi è quindi come aiutare i bambini a eliminare cattive abitudini come quella di mettersi le dita nel naso, mangiarsi le unghie eccetera eccetera eccetera. Ma siamo sicuri che siano cattive abitudini? È il nome corretto? Ne parliamo tra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo! Allora, certo molto spiacevole quando vediamo i nostri bambini fare qualcosa di un po' sgradito a noi come appunto mangiarsi le unghie, mettersi le dita nel naso, fare dei versi o dei rumori e altre cattive abitudini. La prima cosa che vi voglio dire è che dobbiamo fare però un passo indietro, andare un pochino più indietro per provare a differenziare quelle che sono realmente cattive abitudini da quelle che sono qualcos'altro. Cosa intendi Silvia per qualcos'altro? Beh, intendo che ci possono essere delle forme di tic, chiamiamoli così, che assumono l'aspetto di una brutta abitudine. Ad esempio, grugnire col naso, tirare su col naso, fare un po'... non riesco neanche a farlo. Comunque, fare un verso col naso è una delle forme molto comuni di tic. Allora, facciamo un passo ancora più indietro, lontano, lontano, lontano. Se ci sono dei tic complessi, che quindi sono dei gesti, diciamo, molto articolati con dei versi o con delle ripetizioni di parole articolate, bisogna chiedere aiuto perché è un tipo di sintomo che va approfondito per capire come mai. E questo lo sgombriamo dal campo perché non è l'argomento di questo video. Se invece ci sono dei tic, diciamo, singoli, come ad esempio questo grugnito fatto con il naso, tirando su col naso, o delle altre forme di manipolazione o che possono sembrare delle abitudini sgradevoli, dobbiamo capire un elemento fondante. Quando si manifestano? Cioè, sono manifestazioni legate all'ansia, alla tensione, allo stress o sono una brutta abitudine che il bambino ha acquisito, come ad esempio, che ne so, fine del pranzo, quando digerisco, faccio un rutto. Può non essere una bella abitudine, può essere un qualcosa che il bambino ha collegato, è successa magari una volta per caso, ha addestato una reazione, una hilarità, oppure è successo qualcosa e si è fatto il link, si sono collegate le due cose e si è, in quel caso, instaurata un'abitudine. Quindi, è chiara la differenza, qualcosa viene fatta per lo stress, ad esempio anche il mangiare le unghie fino all'osso a volte viene fatto per un fattore emotivo, nell'altro caso non c'è proprio nessun fattore emotivo, ma per alcuni motivi il nostro bimbo, la nostra bimba, ha imparato e acquisito in modo abitudinario un qualcosa che a noi non piace e che vorremmo fargli eliminare. Seguiamo i due percorsi. Allora, se notiamo per la frequenza, per i momenti in cui capita, perché notiamo che nel weekend, quando siamo tutti tranquilli a casa, quell'abitudine sparisce e invece, o quando siamo in vacanza, e invece durante altri periodi ritorna o viceversa, se notiamo che la cattiva abitudine è legata a uno stato di tensione, non possiamo guardare l'allarme che suona anziché vedere dove c'è l'incendio sotto, perché in quel caso la manifestazione pratica è soltanto la punta dell'iceberg e sotto c'è uno stato di tensione. Allora dobbiamo chiederci che cosa succede, perché il bambino o la bambina è tesa, chiedere come possiamo favorire che sia più tranquilla. Sicuramente tutto questo comprende il non far notare troppo quel piccolo tic o quella piccola ritualità, cioè a un bambino che si mangia le unghie per stress se continuiamo a dirgli, ma non ti mangiare le unghie, ma vedi in che stato sono ridotte e poi ti vengono, che ne so, il giradito, eccetera, 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 aumentiamo la tensione col risultato che probabilmente incrementerà il mangiare le unghie. E allora come possiamo fare, Silvia? Allora, intanto cercare di capire quali sono i fattori di stress e provare a ridurli. Intanto non mettere ulteriori fattori di stress e vedere se è così, se è già così il comportamento inizia a essere manifestato meno volte. Se la cosa continua, allora un'altra cosa che possiamo fare è provare a parlare con il nostro bambino o la nostra bambina in un momento di tranquillità per mettere sul piatto l'argomento che a volte certe cose che sono preoccupazioni emozionali o emotive a volte se ne vanno nel corpo e ci fanno qualche dispetto. Oltretutto a volte mi è capitato anche di vedere una correlazione, no? Penso al detto le mani che mi prudono, quindi ad esempio ricordo un bambino che desiderava molto esprimere la sua rabbia, che si grattava sempre il centro delle mani e come se davvero le mani gli prudessero. Poi ovviamente un dermatologo potrebbe dire che ci sono delle zone di maggior secchezza dove la pelle diventa più sensibile, tende a seccare, eccetera, eccetera. Però è anche interessante vedere la correlazione che possiamo fare. Quindi non pressare su questi disturbi, cercare di mettere, disturbi è una parola non giusta, non pressare su queste manifestazioni, cercare di mettere sempre il focus non su di noi ma sul bambino. Cosa significa questo? Ah, ti tocchi il naso o ti mangi le unghie? Mi fai vergognare? Guarda che vai in giro con queste unghie che non si possono guardare. È un commento molto diverso da se ti mangi le unghie poi ti danno tanto fastidio, sei scomoda, credo che poi se ti viene, se si infettano ti facciano proprio male. Cioè, sottolineiamo se vogliamo una conseguenza, senza mettere ansia, e cercando di far vedere la parte che importa al bambino, non la parte per noi. E qui abbiamo seguito, diciamo, il percorso del TIC che appartiene più a un aspetto di stress e non di abitudine. Se invece ci siamo accorti che il nostro bambino, la nostra bambina, ha interiorizzato un'abitudine che non va bene, anche qui si aprirebbero diverse strade. Perché? È solo un'abitudine che si è creata? Oppure è una piccola provocazione nei nostri confronti? Perché magari il bambino sa che ci dà fastidio quella singola cosa e quindi sta cercando un po' di stuzzicarci per ottenere una reazione da noi? Anche lì è diverso, perché se non si tratta di un'abitudine, ma di una piccola provocazione, anche lì ci dobbiamo chiedere a monte. Perché? C'è bisogno di provocare la mamma. Forse in quel caso la prima cosa che mi viene da dire è forse siamo troppo controllanti, forse siamo troppo richiedenti e dobbiamo lasciare un po' andare. Potrebbe essere uno degli spunti così. Ve lo lancio così, tipo un sasso nello stagno. Vedete voi se i cerchi concentrici che si diffondono vi raggiungono. Se invece proprio un'abitudine arrivo alla fine a dire quello che sta nel titolo, le abitudini sono una cosa fantastica e terribile. Perché? Siamo predisposti a crearne, quindi può succedere che si sia creata una routine. Per fortuna quando cambiamo routine cambiano anche le abitudini. Quindi in quel caso quello che dobbiamo fare è provare con il bambino a definire insieme una nuova routine e aiutarlo a mantenerla. Quindi quando abbiamo finito di mangiare anziché fare i rutti oppure quando ti sei lavata le mani anziché mangiarti le unghie fino all'osso, cosa potresti fare così ti abitui a fare un'altra cosa? Perché magari se si tratta di un'abitudine, per il bambino stesso può essere che non sia molto piacevole. Filo conduttore di tutto ciò, ai bambini non interessa quasi mai molto quando noi premiamo troppo l'acceleratore sul giudizio altrui. Oltretutto facciamo tanti video per o comunque riflettiamo su come aiutarli a sganciarsi dal giudizio altrui se ci mettiamo a dire ah la signora ti sta guardando perché ti sei messa le dita nel naso non è molto utile rispetto a questo. Piuttosto, siccome noi non viviamo in un mondo avulso dagli altri, piuttosto che puntare, schiacciare l'acceleratore sulla vergogna e quindi sul fatto che non sta bene, non si fa, non è molto carino, proviamo a sollecitare l'intelligenza emotiva e quindi a mettere così come argomentazione o stuzzicare, stimolare i nostri bambini a pensare a come possono sentirsi altri mentre noi facciamo quella cosa lì. Magari è un altro sentire tirare su col naso provoca disgusto. Magari è un altro vedere mettere dita nel naso provoca disgusto. Se è proprio quello l'obiettivo del nostro bambino allora non si sta parlando di abitudini ma si sta parlando di qualcos'altro. A questo punto mi piacerebbe sapere nei commenti voi avete delle cattive abitudini? Sono abitudini o sono rituali, tic, che vi servono a gestire un po' l'ansia, a sfogare un po' di nervoso? I vostri bimbi ce l'hanno? E di cosa si tratta? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo, ci ascoltiamo, ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao! Ciao!